Cioè, il Parlamento italiano è quello che promulga più legge al mondo. Se ci fosse tutta sta farraginosità... Ne dovrebbe fare al di là delle proposizioni molto meno. Infatti, sì, però non c'è quel problema lì. Cioè, non c'è quel problema lì. Se noi vogliamo velocizzare gli itali e quant'altro, sicuramente non è questo il metodo. Anzi, tra l'altro, questa riforma è molto confusa da quel punto di vista lì. Il bicameralismo perfetto, comunque paritario, che che se ne dica, non è che viene superato. Praticamente, molte leggi che passeranno comunque al Senato, se un terzo dei senatori richiede di poterle esaminare e quant'altro, verranno esaminate e quant'altro. E questo mi permette di chiedere una cosa, perché mi pare che la navetta resterà anche per le leggi bicamerali, no? Ma certo, ma allora, è tutta molto retorica questa riforma. Solo per far passare che si sta facendo qualcosa di innovativo. Ma non è così. Tra l'altro, riforme costituzionali, non è che questa qui sia l'ultima riforma costituzionale possibile, immaginabile, se no poi crolla il mondo. Ne sono state fatte tre negli ultimi quindici anni. C'è stata la riforma del titolo quinto nel 2001, c'è stata la devolution che è poi stata bocciata dal referendum nel 2006, e adesso c'è questa terza qui, quindi cortesemente usiamo altri argomenti.